modello chanel numero 5 notare giuditta ecco la grande moda parigina che fa la sua comparsa al trocaderò ecco la top mobile simona prego simona scuse me wow vuole vedere ma non mi strigli stai fermo lì ma che fai qua primo piano notare gli occhiali di Cassa Tour di Varese ma non mi strigli Grazie